Le notte di Tchaikovsky, che Anastasia amava suonare al pianoforte, eri in tocchi di pioggia a far breccia sul silenzioso raccoglimento di 400 persone unite in una fiaccolata. 400 candeli in mano a fanesi e cittadini della locale comunità ucraina, che ieri si sono radunati in corteo dal Pincio a piazza 20 Settembre, raccolti nel commosso ricordo di Anastasia Alashri, 23enne fuggita dalla guerra in Ucraina e adottata dalla città di Fano, dove il 13 novembre scorso è stata uccisa a coltellate dal marito Amrallah Mustafa Alashri. Un corpo senza vita ritrovato chiuso in un trolle il giorno seguente nelle campagne fanesi di Villa Giulia. Un femminicidio che ha scosso la comunità di Fano, dove Anastasia si era integrata lavorando come cameriera all'Osteria della Peppa e mettendo a disposizione il suo talento al pianoforte. dando lezioni alla scuola di musica Bramucci. Una fiaccolata di solidarietà declinatasi anche in una raccolta fondi per la famiglia Alashri e per il futuro di un bambino di due anni rimasto orfano di una mamma uccisa dal papà. Uno striscione ha stigmatizzato il no alla violenza della città di Fano, come lo hanno fatto le parole del sindaco Seri, dell'assessora Cucchiarini e del vescovo Armando Trasarti. In mezzo al corteo fra la comunità ucraina, anche la mamma e la sorella di Anastasia arrivate nel weekend alla Slovacchia, sulle cui identità è stato concesso il riservo dell'anonimato. Conclusa la fiaccolata, le donne ucraine hanno raccolto le 400 candele. Saranno rifuse, trasformate in torce e inviato a sostegno delle zone ucraine di guerra.